Semifinali Amici 23, puntata che non si farà dimenticare, furioso scontro tra Malgioglio e la Celentano, tra i concorrenti invece, Sara Toscano, ormai è impossibile da eliminare. Ecco tutti i dettagli e le pagelle. Prima però di dirti cosa è successo durante la puntata di ieri sera, ti chiedo di iscriverti al canale e di condividere il video. Grazie mille. Nella recente puntata, Malgioglio e Celentano hanno scontrato le loro opinioni riguardo a un brano di Carla Bruni, assegnato a Sara. Il giudice ha contestato alcune affermazioni della prof di ballo, scatenando un confronto acceso che ha fatto tremare le fondamenta di Amici 23. Durante il commento dell'esibizione di Sara, Malgioglio ha espresso la sua ammirazione per l'allieva, ma ha anche voluto confrontarsi con Celentano riguardo alla sua opinione sulla canzone. Ti deve piacere, ha affermato il giudice in un momento di tensione. Tuttavia, Celentano ha ribattuto, difendendo la sua opinione e rifiutando di essere influenzata dalle opinioni degli altri. Ma questo non è stato l'unico scontro di Malgioglio durante la serata. Prima di questo episodio, il giudice aveva già avuto un confronto acceso con Anna Pettinelli riguardo ai suoi commenti sulle esibizioni degli allievi. La tensione è salita alle stelle, con accuse di parzialità e isteria volate da entrambe le parti. Passiamo adesso alle pagelle. Ecco tutte le pagelle dei concorrenti e i momenti più eclatanti dell'ultima puntata del serale. Michele Bravi, voto 6, lo zampino. Michele Bravi ha dimostrato ancora una volta di avere un ruolo chiave nel destino degli allievi di Amici 23, con giudizi mirati e precisi. Il suo intervento ha certamente influenzato l'esito della semifinale, dimostrando ancora una volta il suo peso nel talent show. Irama, voto 7,5. Riconoscenza. Irama ha stupito tutti con le sue performance, confermando di essere uno dei talenti più promettenti usciti da Amici. Il suo percorso artistico è stato esaltato da Maria De Filippi, dimostrando quanto il talent possa realmente cambiare la vita di un artista. Lorella Cuccarini ed Emanuele Law. Voto 7. And the winner is. La coppia Cuccalo si è aggiudicata il famigerato guanto di sfida, dimostrando una resistenza e una determinazione fuori dal comune. La loro vittoria è stata meritata e ha confermato il loro status di favoriti per la vittoria finale. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Voto 8. Rullo compressore. La squadra Zerbi-Celentano ha dominato la semifinale senza lasciare spazio ai rivali. La loro prestazione è stata impressionante e ha confermato il loro status di favoriti per la vittoria finale di Amici 23. Holden. Voto 7. Finalmente vivo. Holden ha dimostrato di essere finalmente tornato in forma dopo una settimana difficile. La sua interpretazione di «Dimmi che non è un addio» è stata emozionante e ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Mida, voto 6 e mezzo. Si vola a Stoccolma. Mida ha avuto alti e bassi durante la semifinale, ma alla fine è riuscito a conquistare un posto nella finale di Amici 23. La sua determinazione e il suo talento gli hanno permesso di superare gli ostacoli e di continuare il suo viaggio nel talent show. Petit, voto 7. Perseveranza. Petita ha dimostrato una perseveranza incredibile durante la sua partecipazione ad Amici 23, conquistando un posto nella finale grazie al suo talento e alla sua dedizione. Il suo percorso artistico è stato caratterizzato da una serie di performance memorabili che lo hanno reso uno dei concorrenti più amati dal pubblico. Sara Toscano, voto 7 e mezzo. Mission Impossible. Sara Toscano ha letteralmente dominato la semifinale di Amici 23 con le sue straordinarie performance. Il suo talento e la sua determinazione hanno reso impossibile l'idea di eliminarla dalla competizione, confermandola come una delle concorrenti più forti e amate del talent show. Rappalo. Grazie a tutti.